Questo video riguarda i migliori 3 WC chimico portate. Il vincitore della qualità è il Montafox Toilette. Il kit iniziale comprende un set completo di liquidi detergenti e barra o una pistola a spruzzo per la pulizia. Due valvole di risciacquo nel vaso garantiscono la pulizia dell'intera superficie senza residui. La superficie del WC è facile da pulire. La robusta costruzione garantisce stabilità. Il WC sopporta un peso fino a 130 kg e offre una comoda altezza della seduta di 44 cm. Grazie al serbatoio dell'acqua pulita da 20 litri e al serbatoio per le feci da 24 litri, il WC da campeggio può bastare fino a 70 utilizzi. La dimensione totale del WC è 45 cm, 37 cm, 46 cm. Sia il serbatoio dell'acqua dolce che il serbatoio delle sostanze fecali sono dotati di manici per il trasporto. Anche il peso minimo di 4,7 kg consente uno svuotamento semplice e veloce. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Enders WC chimico. Altezza di seduta di 44,7 cm. La forma della seduta del WC è comoda e pratica e alla base del WC si trova un portarotolo per carta igienica integrato, pratico e confortevole proprio come a casa propria. WC campeggio con sciacquone a pompa a pistone, indicatore del livello di riempimento sul serbatoio di scarico, water portatile con separazione del serbatoio dello sciacquone e del serbatoio di scarico per un più facile utilizzo. WC da campeggio con maniglia ergonomica sul serbatoio dello sciacquone e una sul serbatoio di scarico, rullo di trasporto per essere spostato facilmente quando il serbatoio è pieno. Presenza di tubo girevole per svuotare il serbatoio di scarico senza fuoriuscite. WC portatile campeggio igienico. Il copriwater e il sedile del WC da campeggio portatile possono essere rimossi per pulire a fondo le superfici e per riempire il serbatoio dell'acqua velocemente e senza problemi. Il vincitore del premio è il burger WC chimico. La toilette da campeggio mobile WC Comfort è molto facile da pulire grazie alla sua superficie estremamente liscia in plastica igienica. Lo speciale rivestimento antiaderente rende difficile l'insediamento dei batteri. Mobile WC Comfort è molto facile da pulire grazie alla sua superficie estremamente liscia in plastica igienica. Lo speciale rivestimento antiaderente rende difficile l'insediamento dei batteri. Sia il serbatoio dell'acqua dolce che quello dell'acqua di scarico sono rimovibili e possono quindi essere facilmente riempiti, svuotati o puliti. Il tappo a vite trasparente serve come indicatore del livello di riempimento. L'efficace pompa a pistone rimuove tutti i residui durante il processo di lavaggio. Grazie alla sua costruzione particolarmente stabile, può trasportare fino a 130 kg ed è quindi adatto anche alle persone più pesanti. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.